Per completare e rafforzare il mosaico della sua giunta targata a terzo polo, stavolta il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, pesca nella riserva ex PDL. E stamani ha nominato un nuovo assessore, Salvatore Bottone, un passato di consigliere comunale, sino a poche settimane fa, uomo forte e assieme a Giovanni Barbera, coordinatore cittadino del partito di Angelino Alfano. Oggi la rottura non con i vertigi nazionali, ma con quelli provinciali. Abbiamo rotto con una classe dirigente che mal digeriva l'attivismo della base, di fatto è stato questo. E poi non era chiara a pochissimi mesi dalle elezioni la candidatura di Zambuto, su cui noi invece siamo convinti fermamente di sostenere. E con Alfano adesso come si mettono le coste? Ma io non lo so, Alfano come prenderà? Chiaramente prenderà male, possibilmente la nostra scelta. Però dico, una cosa sono i rapporti umani, una cosa è la politica. Se in politica non si condividono le scelte, che la base non aveva i giusti riconoscimenti da parte dei vertici, è chiaro che era necessaria questo strappo, questa rottura. È rappresentativa questa scelta di un'area moderata, che non si sente più rappresentata da un partito che ha ormai deluso le aspettative dei cittadini, degli italiani, dei siciliani e degli agrigentini, e che quindi diventa un riferimento forte questa amministrazione comunale. Questa amministrazione che in questi anni ha lavorato a servizio della città di Agrigento, con grandissime, enormi difficoltà, però abbiamo lavorato misurandoci sui problemi e sui problemi cercando le soluzioni senza avere pregiudizi nei confronti di alcuno. Abbiamo superato quelle ideologiche del Novecento, misurandoci sui problemi e sui problemi facendo le aggregazioni e le alleanze. In questo senso, questo progetto è diventato un progetto grandemente aggregativo di questa città, che oggi segna anche la partecipazione e il consenso al progetto da parte di un'area che ha una storia politica profonda nella storia di questa città. E a certificare l'uscita dal PDL la lunga e invocata lettera di Giovanni Barbera ad Angelino Alfano, nella quale con la solita schiettezza ne ha per tutti, soprattutto con i cosiddetti colonnelli, i veri traditori, che, scrive, forti del potere conferitogli dal voto popolare, sono stati assenti dal territorio. Barbera sottolinea di essere stato posato dai vertici di partito per il mio troppo attivismo, aggiunge. Barbera conclude sottolineando come non riconosca e non si riconosca più nel partito che nel 1993 contribuì a fondare ad Agrigento grazie ai club di Forza Italia.